È un disastro, come ha detto bene, siamo addolorati proprio nel vedere questo scempio. Questo è dovuto al fatto che il muro non è provvisto di palificazioni e quindi le onde scavano di sotto perché penetrano sotto il muro, scavano fino a quando non provocano il cedimento del terreno. Vediamo di fare intervenire tutte le autorità preposte, la protezione civile e il commissario del dissesto per capire cosa fare. In verità abbiamo già un progetto in attesa di finanziamento, però credo che l'intervento si fermi a qualche metro di distanza da questa che è sede del disastro, quindi dovremmo chiedere un ulteriore allungamento dello stesso progetto. Vedremo di coinvolgere tutti gli enti preposti per poter intanto mettere in sicurezza litorale e poi per programmare una ristrutturazione del muro. Siamo ormai da mesi in attesa della pubblicazione del bando per il cosiddetto ripascimento, il posizionamento di blocchi, di una barriera a mare, a protezione di tutto il litorale di Sant'Agata. Questa già in se stesso determinerebbe nel futuro una salvaguardia di tutto il litorale. Però oltre a questo è necessario recuperare la villa Falcone e Borsellino, il litorale e la spiaggia sono risorse, un patrimonio della nostra città che dobbiamo necessariamente recuperare.